Un pericoloso latitante, ricercato a livello internazionale, è stato catturato da una pattuglia di carabinieri di Ponte Nure. È accaduto la notte tra giovedì e venerdì scorsi in piazza Tre Martiri a Ponte Nure durante un controllo. Gli uomini dell'arma hanno infatti fermato una Mercedes con targa straniera, a bordo della quale c'era un cittadino albanese di 31 anni. Dai primi accertamenti è risultato tutto regolare, ma i carabinieri, insospettiti dall'eccessiva sicurezza mostrata dallo straniero, hanno voluto approfondire, scoprendo quindi che nei suoi confronti c'era una nota di rintraccio inserita da Interpol. Portato il 31enne in caserma, i militari hanno scoperto che si trattava di un latitante ricercato per aver commesso diversi reati in Francia. Su di lui pendeva un mandato di ricerca internazionale emesso in Francia, a Nizza, lo scorso luglio. Il 31enne era accusato di sfruttamento della prostituzione riciclaggio e associazione a delinquere. Per aver commesso questi crimini era stato condannato in Francia a dieci anni di reclusione. L'uomo era in Italia con un visto turistico di tre mesi. Ogni cinque giorni viaggiava per l'Europa e si trovava nella nostra provincia da circa una settimana, a causa della moglie che doveva partorire. I carabinieri hanno inoltre scoperto che il 31enne era già stato controllato altre volte in giro per l'Europa, ma nessuno si era mai accorto che era ricercato. Ora era inchiuso al carcere delle novate. Tramite la corte d'appello di Bologna verrà estradato in Francia. Il conducente si mostrava tranquillo, però la battuglia vedeva che a suo giudizio era un personaggio un po' particolare. Controllando anche il passaporto hanno notato che c'erano diversi spostamenti nel territorio europeo negli ultimi periodi e approfondivano appunto il controllo. Io saltavo fuori che aveva un mandato di cantura internazionale emesso dalle autorità francesi per sfruttamento della prostituzione, riciclaggio e associazione a delinquere. Quindi lo abbiamo sottoposto ad arresto.